Il Vangelo di questa Domenica di Pasqua ci riporta nel cuore del Cenacolo, nella notte in cui Gesù viene tradito da Giuda. In questa quinta Domenica di Pasqua risuonano dentro di noi le parole più emozionanti di Gesù, che dopo l'istituzione dell'Eucarestia, del sacerdozio e dopo la lavanda dei piedi, lascia ai discepoli un nuovo comandamento, forse il suo testamento. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni e gli altri come io vi ho amato. Un comandamento cucito sulla sua persona, che disegna l'identità stessa del cristiano e che deve allora essere la nostra eredità, il nostro distintivo. Infatti un cristiano lo si dovrebbe riconoscere dal modo che ha di amare, di vivere le situazioni e le relazioni con le persone. Un cristiano non è riconoscibile solo dai vestiti o dalle croci appese al collo e neppure dalle abitudini domenicali. Allora, qual è la novità di questo comandamento che Gesù affida ai suoi discepoli? L'antico comandamento dell'amore è diventato nuovo perché è stato completato con questa giunta, come io ho amato voi. Un forte richiamo quindi a vivere con profondità le relazioni tra noi e con gli altri. Proviamo a soffermarci questa domenica su questo passaggio, analizzando la nostra capacità di vivere questo comandamento nuovo nelle nostre dinamiche esistenziali e nelle nostre comunità cristiane. Siamo veramente testimoni di questo pensiero? Le nostre comunità vivono la dimensione dell'amore oppure sono caratterizzate da divisioni e contrapposizioni? Tutti abbiamo gente che non va d'accordo con noi, che sta dall'altra parte, qualcuno ha gente che gli ha fatto del male. Io sono capace di amare quella gente, quell'uomo, quella donna che mi ha fatto del male, che mi ha offeso. Sono capace di perdonarlo? Ognuno è chiamato oggi da questo Vangelo a rispondere nel suo cuore. L'amore di Gesù ci fa vedere l'altro come un membro attuale o futuro della comunità degli amici di Gesù. Ci stimola il dialogo, ad ascoltarci e conoscerci reciprocamente. L'amore ci apre verso l'altro diventando la base delle relazioni umane. Rende capace di superare le barriere nelle proprie debolezze e nei propri pregiudizi. La novità, la rivelazione di Gesù, sta tutta in questo piccolo avverbio, che è come me. Lo specifico del cristiano non è amare, lo fanno già molti e in molti modi, bensì amare come Gesù, con quello stile che lui ha mostrato, con amore creativo che inventa gesti che nessuno aveva usato mai, che lava i piedi ai suoi oppure chiama amico contraddittore. Vorrei concludere questa mia breve riflessione con un pensiero del beato Rosario Livatino, il giudice ucciso dalla mafia e beatificato poco più di un anno fa, che ci può sicuramente aiutare a comprendere meglio il pensiero di Gesù. Amatevi come io ho amato. Rosario Livatino ci dice che in tal senso non basta essere credenti, ma che dobbiamo essere anche credibili. Rosario Livatino. Rosario Livatino. Rosario Livatino. Rosario Livatino. Rosario Livatino. Rosario Livatino.